Più 4,4% per l'export distrettuale dei poli tecnologici con un incremento di 1,3 miliardo rispetto al 2022 e poi il boom del polo farmaceutico toscano che segna il più 38,8% e quanto emerge dai dati relativi al 31 dicembre 2023 dai monitor rappresentati da Intesa San Paolo il quadro dell'economia e finanza della nostra regione certifica la fine degli effetti negativi e positivi pandemici e i condizionamenti imposti dal contesto geopolitico, i fattori che segnano crescita e rallentamenti sono diversi La media della Toscana anche nelle previsioni del 24, dell'anno attuale del 25 si attesterà intorno all'1% di crescita quindi siamo tornati ai livelli pre-covid e quello che domina il pensiero degli imprese toscane è la parola incertezza il problema dei tassi che non scendano, il problema delle esportazioni che fanno fatica la logistica e i costi di trasporto sono sempre alti Il sistema moda con un ritardo quasi del 6% è quello che segna la crisi maggiore su tutte la pelletteria e le calzature di Firenze sono in affanno passi in avanti invece per la filiera dell'agroalimentare e del florovivaismo pistoiese Meglio ancora fa il comparto mezzi di trasporto sia con la nautica di Viareggio al più 20% e la camperistica della Valdelsa al più 35% Incentivazioni derivanti da Transizione 5.0 e dai progetti PNRR che in questo momento sono disponibili e che possono incoraggiare un ulteriore salto di qualità e di competitività delle nostre aziende Il mercato degli Stati Uniti è quello che contribuisce a rendere solida la crescita del farmaceutico Le esportazioni raggiungono quasi gli 8 miliardi di euro Il trend conferma che presto la Cina sarà sempre più uno sbocco futuro per questo settore